Sono Giuseppe Cocco e sto viaggiando lungo l'Umbria dei Sapori per raccontare e suggerire a turisti e viaggiatori del gusto territori, luoghi, produzioni agroalimentari tipiche che rappresentano le biodiversità e le identità materiali e immateriali dell'Italia. Arroccato su uno sperone del subasio, il borgo di Spello affascina Umbro, antiche case di arenaria su vicoli medievali, stretti e tortuosi, scalinate e cavalcavia, improvvisi squarci panoramici sulla piana del Topino e le colline argentate di ulivi della Valle Umbra, da Montefalco ad Assisi a Perugia. Improvviso anche lo spettacolo degli affreschi del Pinturicchio del 1501 nella Cappella Baglioni. Il vigneto ha un acuto a Montefalco, patria del Sagrantino di OCG, grande vino rosso, secco e passito. Una strada del vino guida dal borgo titolare in una spirale enologica che tocca Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Bevagna. Altri vini sono inquadrati nella IGT Spello Bianco, rosso e rosato, con specifiche del vitigno. Vini IGT, un buon rosso e una speciale vernaccia a frutto nero, si trovano anche nella vicina Cannara, borgo agricolo di antiche origini, che è celebre per la coltura della cipolla, dorata e rossa, di cui si fa un'ottima zuppa. Gli oliveti che si vedono nel paesaggio legano Spello a Foligno, altra città dell'olio, della menzione geografica Colli Assisi-Spoleto. Foligno ha storia antica, romana e medievale, rievocata ogni settembre dalla giossa della Quintana, in occasione della quale nelle taverne si gustano piatti di remota tradizione. Nella cucina casalinga spiccano come specialità gli strangozzi o strangolapreti, pasta lunga di farina di grano tenero e acqua, e il palmostato, impastato con lievito di birra, aromi, mosto, anice e uvetta nel periodo della vendemmia. Se si intraprende la salita al valico appenninico lungo la spettacolare statale 77 della Val di Chienti, fino a Colfiorito e all'omonimo piano al confine marchigiano, l'orizzonte, anche gastronomico, cambia sensibilmente. Siamo in una zona agricola d'alta quota e protagoniste, nei campi e in tavola, sono patate rosse e lenticchie. Città di pianura, Foligno, determina una frattura nella percezione di un'umbria tutta legata ai rilievi collinari, netta nei suoi caratteri medievali. Eppure Foligno, della sua origine medievale, mantiene intatti il sito, la forma, la gerarchia delle funzioni. Nata prima del 1000, accanto alla decaduta Fulginia, come insediamento castrense, il suo spazio, oggi occupato dalla cattedrale e dalle canoniche, si erge ai margini di una risorsa idrica fondamentale, il fiume Topino, e di antichi tracciati viari mai dismessi. L'iniziale evoluzione urbanistica, che corre lungo il 1000 e il 100, entro il primo 1200, viene circoscritta da una cerchia muraria. Per successive espansioni e mutazioni, con costruzioni di cinte murarie, intorno alla metà del 1300 la città raggiunse la sua dimensione massima, quella che si poteva agevolmente vedere ancora negli anni 50 del 900 e che tuttora si coglie camminando con pazienza tutto intorno. L'abbattimento totale delle porte e di una porzione cospicua delle mura urbiche tra l'unità e gli anni 1930, la progressiva fuoriuscita dei residenti dal nucleo antico, la trasformazione degli spazi rurali in aree urbanizzate. Questi fattori hanno soffocato la città storica e ne hanno reso incerto il profilo. Foligno sembra essere, di primo acchitto, una città senza connotazione. In effetti è la modernità 5-ottocentesca a costituire il tratto peculiare, poiché ha mantenuto funzioni territoriali di un certo rilievo nei secoli moderni, da qui nasce il topos del porto di terra dello stato pontificio. Foligno ha consentito di investire risorse anche ingenti nel rinnovamento edilizio, operazioni volte a perpetuare la dignità patriziale di un casato o a favorirne l'affermazione, hanno implicato una rivisitazione della città a volte anche molto incisiva e ne hanno riclassificato l'immagine esteriore. A definire questo hanno infine concorso i processi urbani contraddittori dell'ultimo secolo, stravolgimenti di secolari destinazioni d'uso, trasferimento e destrutturazione di talune manifatture, rettifiche viarie, demolizioni di edifici anche di prestigio monumentale e poi le bombe dell'ultimo conflitto mondiale che hanno devastato il tessuto urbano. Il terremoto del 1997 ha colpito un organismo provato, accentuandone in più parti la crisi. A proposito delle origini dell'insediamento in età alto medievale, in vari documenti successivi al 1000 trova riscontro l'esistenza di un Comitatus Fulineatus nel 1023 che prende nome dal centro urbano di riferimento un polo allora recente, la Civitas Fulinea, così in un testo del 1065, o Civitas Sancti Feliciani nel del 1082, sede del Vescovo e dei Canonici. Questa è lo sviluppo di un insediamento castrense da localizzare tra le odierne piazze della Repubblica, Faloci e Faloci Pulignani. Intorno all'800 era venuta confluendo nel Fulineas Castrum una popolazione che tra il VI e il VII si era rifugiata sulle alture collinari circostanti, in particolare su un collo tuttora noto come San Valentino. Testimonianze del VII-VIII secolo attestano l'identità cittadina dell'insediamento ubicato su questo colle e l'appartenenza di esso al Ducato di Spoleto. Si tratta della Fulginia, alto medievale, ricordata nei documenti posteriori col termine Civitavecchia, a indicarne l'avvenuta decadenza. Prima di salire sui colli questa popolazione aveva abitato Campi, da cui deriva il toponimo di San Maria in Campis, Santa Maria in Campis. Campi, poco a destra dell'odierna Foligno, era la Fulginia o Fulginie o Fulginium, romana, estesa tra l'attuale stazione ferroviaria e la via Rubicone, la cui crisi era iniziata già attorno alla fine del III secolo. Nel 1177 il comune cittadino risulta ormai consolidato nella forma consolare. Nel 1198 è la prima scelta potestarile. La maturazione del comune popolare, che realizza i suoi istituti in questo periodo, il primo capitano del popolo e attestato al 1250, avviene in un contesto di Bellino. L'affermazione del partito Guelfo, sancita dalla vittoria di Perugia contro Foligno nel 1254, non andrà oltre un decennio. E non appena i Ghibellini tornano al potere, ricomponendo la saldatura tra i settori mercantili della città e l'assetto istituzionale popolare, sarà il priore delle arti, Anastasio di Filippo degli Anastasi, a imprimere una svolta monocratica all'istituzione comunale, assumendo la signoria di fatto sulla città fino al 1305. Agli Anastasi succedono i trinci tra il 1310 e il 1439, che segnano il periodo più prospero per Foligno, dove oltre commerci si sviluppano importanti lavorazioni su base artigianale. Si radicano in questo contesto e si evidenziano nel tempo con diverse fortune alcune specificità locali. L'orificeria, l'argenteria, l'intaglio ligno, la ceramica d'uso, la produzione di cera, i filati, i manufatti in canapa, lana e seta, l'attività cartaria, l'edilizia, le arti decorative, l'arte organaria, la fusione dei metalli. Nel settembre 1439 l'esercito pontificio di Eugenio IV occupa la città, che da allora non avrà più storia propria. È stata sottolineata la forma ovata della città, benché iscrivibile in un'ellisse. Foligno ha avuto e ha tuttora un solo fuoco, costituito dall'oderna piazza della Repubblica, lo spazio dove si affacciano la cattedrale, le canoniche, i palazzi del potere pubblico. Nel dislocarsi questi eminenti edifici hanno circoscritto con geometrica precisione un ambito collettivo, il luogo privilegiato degli scambi e delle assemblee cittadine, la platea Fulginei, come si legge in un documento del 1214, cioè la piazza per antonomasia detta nel tempo del comune pubblica grande maggiore nodo nevralgico della città. Davanti alla facciata principale della cattedrale non poteva mancare uno spazio proprio, sacro, che ha pure racchiuso funzioni e rapporti economici. La piazzetta di San Feliciano, o piazza piccola o dei pomi, l'odierno Largo Carducci, poco o lungi ma ben collegata al perno centrale, la piazza nuova, oggi del grano, ha formato principalmente il polmone frumentario. Questo sistema centrale, intreccio di poteri e di ruoli, è alimentato da vie e piazze distribuite secondo rigide gerarchie rimaste immutate per secoli nelle loro funzioni. A man mano che dal bozzolo originario e dalle vie che lo collegano alle porte ci si addentra nel dedalo di strade e vicoli secondari e periferici, il tessuto edilizio diventa minuto, povero, poverissimo. È questa la foligna nascosta dietro le quinte lineari formate dagli edifici maggiore che si affacciano lungo le strade principali dando il tono alla città, stemperandone o addirittura occultandone l'impianto e l'immagine medievali. Vicine al cuore istituzionale della città si ergono le residenze dei maggiorenti, nobili, patrizi e mercanti. Ai bordi del costruito le due collegiate di Santa Maria Infraportas e del Santissimo Salvatore, le chiese e i conventi degli ordini mendicanti, francescani, agostiniani, serviti e domenicani. La rete dei bizzoccaggi, reclusori e luoghi comunitari che via via si trasformano in monasteri. È un succedersi a ondate modulato sull'ampliamento della città, soprattutto nella sua fase due-trecentesca. Tra questa cintura monastico-conventuale e le mura dell'ultima cerchia si sviluppano la strada delle mura, vero e proprio anello di circonvallazione e gli orti. Gradualmente e comunque con il 1500 si stabilisce una centralità economica e simbolica nuova, imperneata sulla direttice mediana formata dalle vie oggi chiamate 20 Settembre e Corso Cavour, per molti secoli denominato Via della Fiera. A testimonianza di tale evoluzione emergono segni sempre più netti. La riunificazione degli ospedali cittadini in un fabbricato qui posto, le logge di rinnovata architettura nel 1517, la posta con la relativa locanda, le dimore ricostruite tra 5 e 600 degli esponenti del ceto patriziale e civile, gli alberghi, le numerose botteghe disposte tra Porta Romana e Porta San Giacomo, il Teatro Apollo del 1827, la Cassa di Risparmio del 1858. Nel secondo 1800 comincia l'espansione verso l'esterno, contrassegnata dalla costruzione della stazione ferroviaria e di alcuni impianti industriali, poi dello stadio e dei villini al ridosso delle mura e lungo i viali che collegano la stazione al centro storico. Dal 1946, a proposito di manifestazioni, si svolge ogni anno, seconda e terza domenica di settembre, la giostra della Quintana, che si ispira a una gara a cavallo del 1700 ed è preceduta da un corteo storico con ben 600 personaggi. Tra settembre e ottobre, poi, sono organizzati dal 1981 i segni barocchi, con spettacoli musicali, teatrali, cinematografici improntati appunto al barocco.